Questa crisi ci deve insegnare alcune cose fondamentali, secondo me, e la prima è che dobbiamo pensare prima a quello che verrà dopo, cioè non possiamo nascondere la testa sotto la sabbia e non immaginare i scenari e quindi non prendere provvedimenti prima che questi scenari poi si presentino nella realtà con tutta la loro drammaticità. Noi siamo abituati, ormai insomma, il sistema, chiamiamolo così, ci ha abituato a vivere le situazioni al momento e la fiducia che abbiamo nella scienza ci abitua anche a pensare che a ogni problema nel momento in cui si presenta trovi una soluzione, trovi una risposta nella scienza, una risposta pronta, immediata e sufficiente. Ora questa crisi ci insegna anche a dubitare che questo possa essere vero. Lo vediamo, volevo considerare in questo video soprattutto una cosa, quella cioè che siamo di fronte a un collo di bottiglia che sarà difficile superare, ora ci rendiamo conto che ci manca personale sanitario e medici. E di fronte all'emergenza ci sono due risposte che vengono in qualche modo prospettate, quella di trovare sufficiente materiale, mascherine, ventilatori, approntare rapidamente ospedali da campo, ospedali in zone particolari, mi riferisco alla Fiera di Milano, insomma, ipotesi di navi, eccetera. Però di fronte a un'urgenza e a qualcosa che cresce da una marea montante, io credo che il limite, il collo di bottiglia che abbiamo davanti non sia tanto quello rappresentato dai supporti, che pure sono importanti eppure sono in una situazione critica. Ma quella, diciamo così, in qualche modo si può rimediare, facendo fronte, riconvertendo industria, insomma, in qualche modo si potrebbe trovare anche una soluzione in tempi abbastanza rapidi. Quello a cui non è possibile trovare una soluzione invece in tempi rapidi è la carenza di personale. e allora ci troviamo a vivere delle contraddizioni, per far fronte a questo, delle contraddizioni che non vivremmo se fossimo stato un po' più previdenti, e avessimo pensato che a volte avere anche più personale del necessario può essere una cosa importante, cioè creare delle riserve. È stato usato un esempio, l'ho usato anch'io, quello dei ragazzi del 99 al fronte, insomma, non nel momento in cui... ma mi viene in mente che nelle trincee c'era sempre una prima linea che però poteva essere sfondata e quindi le trincee erano sempre collegate con camminamenti, eccetera, una seconda, una terza linea, insomma. Non si sarebbe pensato durante la prima guerra mondiale di mettere dei soldati soltanto in una linea di trincea e poi lasciare il vuoto dietro. Erano sempre delle riserve. Ecco, adesso ci troviamo improvvisamente a constatare che non abbiamo delle riserve. E dove andiamo a pescare? Allora, quali sono le cose che prospettiamo? Quella di ritornare a mandare al fronte, in prima linea, a combattere contro, diciamo, nelle rianimazioni, insomma, contro questo nuovo nemico, i vecchi medici pensionati, che hanno ormai l'età che è più a rischio per quello che riguarda la mortalità. E' quindi una scelta un po' imprevidente, no? Se li mettiamo in un ambiente dove vedo i dati, c'è un 8% di probabilità di contrarre la malattia, che non è poco, in Italia, mentre il 4% è stata la probabilità di contrarre la malattia da parte del personale sanitario in Cina. E questo fa pensare che in Cina avessero adottato dei sistemi più efficaci dal punto di vista della protezione, non so quale, non so perché, ma i dati fanno pensare a questo, e quindi di mandare i medici pensionati in prima linea. Cosa un po' imprevidente, secondo me, insomma. La seconda è quella di mandare i medici neolaureati, che anche questi, e anche questa scelta, è una scelta imprevidente, perché vuol dire mandare in prima linea del personale inesperto. Quindi, inesperto a tutelare gli altri, inesperto a tutelare se stesso, è incapace, perché non ha mai avuto esperienze di questo tipo, non puoi far laureare uno e farlo studiare soprattutto in teoria e poi mandarlo in una situazione in cui la pratica è l'aspetto fondamentale, insomma, no? E loro stessi si dichiarano non preparati a questo, insomma, no? E in qualche modo si ribellano, insomma, fanno, si appellano al TAR per non essere mandati così improvvisamente in prima linea. Cosa gioca? In questo senso la paura, ma, insomma, è umano pensare che se prima ci voleva una certa preparazione per cominciare gradualmente, cioè ci voleva l'esame di Stato, ci voleva il cantato per fare l'esame di Stato, poi ci voleva la specializzazione, adesso non puoi prendere delle persone neolaureate, inesperte e mandarle in prima linea. Uno perché non sapranno tutelare abbastanza se stessi, ma poi il secondo perché non saranno in grado di tutelare con efficacia la salvezza, insomma, di intervenire in maniera importante. E anche il discorso di, insomma, lì in un campo di battaglia bisogna saper combattere, bisogna saper fare, non è che si può appoggiarsi e fare un'azione solo di supporto, insomma, bisogna alternarsi nei turni, quando il personale è poco, insomma, bisogna fare di tutto. Certo, è un luogo dove si può imparare, ma è un luogo dove non si ha sicurezza quando si mandano giovani inesperti e invece quando le capacità tecniche e dove il saper fare diventa una cosa fondamentale. Quindi due aspetti a cui si è costretti a ricorrere in uno stato di necessità, ma che non funzionano, insomma, sono delle soluzioni che fanno vedere come il collo di bottiglia è qui, è nel personale umano e quindi più che la tecnica, diciamo, il limite è quello rappresentato dalle risorse umane, dal modo di usare le risorse umane e dal modo di preparare queste risorse umane. E poi abbiamo l'esempio dei medici malati di Napoli, mi parlo dei Cardarelli, dove si ha l'impressione che la paura comincia a farsi sentire e anche la paura è un aspetto umano. abbiamo fatto dei medici, degli eroi improvvisamente, quando fino a questo momento una medicina di difesa costringeva i medici a lavorare in uno stato di assedio continuo per la paura delle denunce e la scarsa tutela che si aveva. E quindi prima i medici erano, tanto è vero che mi capitava di vedere anche negli ospedali insomma, da parte di cartelli, insomma, all'entrata, insomma, di personale sanitario e cercava di dire non prendetevela con noi, insomma, non aggrediteci, fateci lavorare. E adesso improvvisamente se ne sono fatti degli eroi. Dopodiché, alla prima sintomo di defezione, insomma, di un gruppo di medici probabilmente isolati, ma insomma, di un gruppo di medici abbastanza numeroso che si è dato per malato per non affrontare questo rischio, che è un rischio dell'8%, diciamo così, di contrarre la malattia stando al fronte, li vediamo immediatamente come dei criminali, tra virgolette, no? Li censiamoli tutti, eccetera, eccetera. Quindi o eroi o criminali, insomma, non c'è una via di mezzo. In realtà le sfumature sono tante in una realtà come questa. E poi vediamo gli eroi al fronte. I quali eroi al fronte, cioè i medici che è il personale sanitario, che si sta impegnando con energia, con sacrificio, è impegnato in uno sforzo sovrumano, secondo me, con dei rischi personali, con dei sacrifici, con uno stress non soltanto fisico, ma anche psichico, uno stress enorme, insomma, no? Certo, sono eroici nel loro lavoro, ma quanto dureranno? Quanto questi combattenti, come succede ai combattenti, non cederanno, no? E spesso si è visto, no? Come il cedimento sia sia un cedimento perché alla fine ti si ammala e si rischia anche la vita, come è successo anche ad alcuni medici. Sta succedendo al personale sanitario. In Italia si ammalano, leggevo i dati, insomma, un 8% circa di quelli che stanno in prima linea nelle rianimazioni. E poi c'è uno stress psichico, insomma, a un certo punto la fatica, la paura, la paura anche di trasmettere la malattia ai propri cari, quindi la necessità, vedevo, di poi di vivere solo, di mandare i familiari a vivere altrove per paura di contagiarli, no? Questa situazione non può durare a lungo. A un certo punto interviene l'esasperazione, interviene la rassegnazione, intervengono dei fattori psicologici, insomma, per cui anche chi è al fronte, chi è eroico nei primi giorni, nelle prime settimane, man mano che passa il tempo, rischia di essere anche questo messo fuori combattimento. E allora il limite ritorna nelle risorse umane, per motivi comprensibili, per motivi prevedibili soprattutto. E qui ci troviamo impreparati, il sistema si trova impreparato e questo, secondo me, è il collo di bottiglia più grave, insomma, no? Diciamo, la macchina lavora, non ha limiti emotivi, non ha limiti così. Una volta messa lì, una volta costruito l'ospedale, costruito il reparto in qualche luogo di fortuna, eccetera, eccetera, quello può lavorare. Ma gli uomini non sono così. E gli uomini rischiano di venire a mancare, rischiano di non essere adeguati quelli che vorremmo immettere come rinforzi e rischiano di crollare quelli che invece stanno già da tempo, da settimane ormai, in prima linea, insomma, no? e vedono anche la loro opera, la loro attività, spesso limitata da questa scarsa possibilità di essere effettivamente utili, cioè nel senso di intervenire fino in fondo, cioè nel non avere poi strumenti farmacologici, nell'avere strumenti che possano effettivamente modificare il corso della malattia, cioè si vedono soltanto la necessità di provvedere al mantenimento delle funzioni vitali finché queste non potranno riprendersi da sole, ecco, ma non hanno strumenti per modificare l'evoluzione della malattia. E nello stesso tempo a volte vivono anche situazioni in cui si sentono scarsamente dotati di tutte quelle misure che sono necessarie per proteggersi. E poi anche la difficoltà, no? Resevo questi vestimenti, queste preparazioni che durano mezz'ora, poi dover resistere, anche senza poter andare in bagno per sei ore, insomma. Una situazione molto, molto, molto stressante, in cui, insomma, in cui le resistenze, per quanto ci si metta la volontà, l'energia, l'impegno, l'eroismo, in qualche modo, poi a un certo punto cedono. Allora il fattore tempo diventa un'altra volta fondamentale. Il fattore tempo sarà fondamentale sia per chi lavora in prima linea, come mi sembra di avere anche già detto, sia per chi è a casa, sia per chi è a casa perché chi non è abituato a stare in casa, a stare isolato, non ha delle risorse per stare in casa. Man mano che poi anche queste misure si andranno restringendo, quindi si sarà costretti anche a non uscire per una boccata d'aria, ci saranno molte persone che con l'andare del tempo avranno dei seri disturbi, insomma, anche legati a questa nuova situazione, insomma, persone che non hanno le risorse dentro di sé per essere così limitate. Poi le persone sole che non possono neanche parlare con nessuno, non confortarsi con nessuno e che magari non hanno neanche internet, insomma, con cui comunicare anche a distanza. Questi colli di bottiglia, il limite delle risorse umane, però anche qua quello che ci insegna a questo punto la crisi, secondo me, è che segnali di una possibile catastrofe, perché questo è un evento catastrofico e questo evento catastrofico, tanto per non essere catastrofista, poteva essere già annunciato, molti lo mettono in rapporto con la deforestazione, quindi con la promiscuità con animali che vivevano prima isolati nelle foreste, nei loro habitat, insomma, poi diventano promiscui con l'uomo, e poi con una, come dire, con un'attività umana, con una dimensione della vita umana fatta di viaggi, fatta di inurbamento, fatta di metropoli sovraffollate, in cui evidentemente il contagio è molto più favorito. È comunque un annuncio di una catastrofe, di cui non ne parlo io, ne parlano scienziati molto più, molto affermati, ne parlano riviste scientifiche importanti che mettono sull'avviso come certi fattori che possono preannunciare una catastrofe, sono in atto e come stiamo vivendo questo percorso che va verso una linea, diciamo, al di là della quale poi c'è il precipizio. Basta sentire anche i discorsi, le conferenze, anche di Telmo Pievani, insomma, che non è l'ultimo venuto, insomma, e che basa le sue, ricerca le sue riflessioni su dati scientifici di valori internazionali che circolano da tempo. Come le premesse, come i fattori che sono stati individuati dalla scienza stiano andando in quella direzione. Ma pare che ci sia ancora la possibilità di fermare questa corsa. E io mi immagino che siamo come in una locomotiva, insomma, che sta andando a tutta velocità verso un burrone. Poi, quando si sarà vicino al burrone, se non si sarà frenata prima questa locomotiva, che ha una massa enorme, sarà difficile mettere il freno all'ultimo momento, insomma, non ce la farà fermarsi, precipiterà. Allora siamo ancora in tempo per mettere questo freno, per cominciare a cambiare la velocità di questa locomotiva e quindi per salvarsi in qualche modo dagli altri fattori che, insomma, rischiano di farsi precipitare in una catastrofe irreversibile come sono già avvenute nella storia del mondo. Ma questa è la prima scatenata in qualche modo da un fattore umano, non da un fattore esterno, non dall'asteroide, per rendersi conto. E quindi una cosa a cui ci dovrà far riflettere, perché ormai la pandemia si sta coinvolgendo tutti e più o meno con lo stesso andamento la cosa sta prendendo i vari paesi, le varie nazioni del mondo, insomma. Sono interessanti i grafici per far vedere come noi siamo venuti un po' prima, ma una settimana dopo ci stanno seguendo poi le principali nazioni europee. E quindi è una cosa che si riguarda tutti, insomma, che modificherà in modo irreversibile la nostra economia, ma probabilmente anche i nostri comportamenti. Perché, per esempio, dovremmo comunque ripensare la globalizzazione, insomma, dovremmo ripensare il fatto che certe produzioni, soprattutto quelle essenziali, dovremmo, non le possiamo più sempre solo delegare ai luoghi dove costano meno, insomma. Dovremmo anche produrcere, essere capaci di avere una riserva nel momento in cui sia necessario, insomma, di essere capaci di produrci quello che serve. E quindi dovremmo andare di più a vedere qual è l'essenziale. È anche interessante vedere come, e qui, insomma, vedevo anche certe foto di Venezia, no? Libera dal turismo. Come l'ambiente in realtà, insomma, antropizzato, si stia riprendendo rapidamente dall'invasività umana, insomma, basta che Venezia sia libera dal turismo, dall'inquinamento, da tutta questa cosa qui per un po' di giorni, perché l'acqua ritorni pulita, perché si riesca a vedere di nuovo il fondo dei canali, il fondo della laguna, perché gli animali si riprendano un certo spazio, insomma, perché il cielo cambi, perché non si vedano più le strie di vapore nel cielo, perché non passino meno aerei, perché il nave, perché è liberato dalle grandi navi, il moto ondoso cambi, quindi la città diventi più sicura, perché si limiti anche poi il franare, insomma, del fondamento su cui è costruita la città di Venezia, ma tutto l'ambiente in generale, insomma, come già il cielo della Valpadana stia cambiando. Ecco, quindi è impressionante, e di questo dobbiamo tenerne conto, vedere come quando le attività umane, diciamo le più inquinanti soprattutto, si fermano, basta per un poco, l'ambiente ritorni a respirare. Allora quello che dobbiamo imparare da questa crisi è che siamo ancora in tempo a fermarsi, a rivedere questo modello di sviluppo, che siamo ancora in tempo a rallentare questa locomotiva e che abbiamo cominciato a capire gli effetti della catastrofe che abbiamo davanti se non ci fermiamo. E anche la nostra fragilità, la nostra fragilità di uomini, che dobbiamo cominciare anche a non mitizzare troppo la scienza, come non mitizzare troppo la medicina. Stiamo vedendo i limiti, insomma, la natura, bene o male, è più forte. Grazie. Grazie. Grazie.